Eeeh, teutoni, persiani, italiani, britanni, cioè abbiamo fatto i più potenti, vero? Ma credete che la classifica delle civiltà di age più potenti in assoluto sia finita qui? Oh no, perché ognuna, come vi ho già detto, è unica, particolareggiante e quest'oggi voglio farmi di birra e carne di cinghiale, per cui vichinghi! ...of empires. Che belli i vichinghi, davvero ruspantissimi! E per che cosa sono noti i miei amici vichingoni? Ma ovviamente per le loro incredibili fanterie, ma soprattutto per il loro incredibile berserk! Oh mio Dio, fantastico, meraviglioso ragazzi, c'è anche la capacità di curarsi da solo, oh, quanta roba! E per non parlare delle barche, guardate, la barcaccia! L'unica tipo, l'unico tipo di barca particolare, l'oro al posto di tante altre, guardate che bella, la barcaccia! Bella, resistente, tantissima vita, cioè ha quasi più vita del galeone ed è davvero resistentissima, cioè potentissima, gittata astronomica, meraviglioso, fantastico! Ma andiamo con ordine, qua in parte, come sempre, sempre il diagramma della tecnologia, altrimenti come facciamo a scoprire cosa dobbiamo utilizzare... scusate, Rasteghino, cosa dobbiamo utilizzare contro i nostri nemici? Ebbene, ragazzi, iniziamo subito. Cività nota per l'affanteria e le navi, e infatti l'abbiamo già visto. Anche se, devo essere sincero, dal punto di vista degli arcieri, beh, non sono mica messi male. Cavalleria la lasciamo lì, i fabbri ne hanno davvero tante di tecnologie, e i monaci, insomma, così così non tanto, mentre per tutto il resto, beh, siamo nel normale. Ma iniziamo, costo delle navi da guerra, e qui, ragazzi, i bonus si fanno fettenti e importanti. Meno 15% nell'età feudale, meno 15% nell'età dei castelli, meno 20% nell'età imperiale. Cioè, detta in parole povere, ragazzi, ad esempio la galea, beh, nell'età feudale vi costa 90 di legname e 30 di oro. Nell'età dei castelli, 90 di legname e 30 di oro. Nell'età imperiale, sì, nell'ultima età, nell'età imperiale, 90 di legname e 30 di oro. Cioè, non so se ve ne rendete conto, il galeoni finale, che è potentissimo, ragazzi, davvero una macchina per sterminare tutto quello che c'è in acqua, è davvero potente. E voi, semplicemente con un potenziamento e grazie a questo incredibile bonus, potete farlo allo stesso prezzo di una galea. Cioè, se questo non è un bonus già di loro OP, io non so cosa non lo sia. Resistenza ai colpi della fanteria. Ebbene sì, ragazzi, la nostra amata fanteria, tutta la fanteria, e cioè tutta la milizia e tutto quello che ne viene sotto, tutti i lanciari e anche i nostri fantastici berserk, sono più resistenti. 10% nell'età feudale, 15% nell'età dei castelli, più 20% nell'età imperiale. E avete visto come, ad esempio, con civiltà come, ad esempio, i teutoni, anche questi piccoli bonus che paiono praticamente inutili all'apparenza, in realtà hanno sotto di loro un... vi daranno sotto di loro una potenza, un bonus contro il corpo a corpo davvero importanti. Ma non è finita qui, perché la cariola e il carretto, che sono essenzialmente le tecnologie che potete andare a sviluppare appunto nel centro città e che appunto vi permetteranno ai vostri abitanti di villaggio di spostarsi più 10% e trasportare il più 25% in più di risorse, beh, cariola e carretto sono gratuite, cioè voi non dovete spendere nulla di tutto. Questo, sono gratuite, i vostri uomini di età in età continueranno a macinare più cibo più velocemente e si muoveranno anche più velocemente. Abbiamo visto le unità tipiche dei nostri fantastici vichinghi, che mi piacciono davvero tanto, e abbiamo il berserk per poi andare verso il berserk elite, e poi abbiamo la barcaccia e la barcaccia elite. Ma ora andiamo a scoprire le tecnologie riservate come quello dei capitani. La fanteria ottiene attacco bonus contro cavalleria. E se, ragazzi, già i lanceri e gli alabardieri contro la cavalleria avversaria avevano già un grande bonus, perché sì, ragazzi, un esploratore cavallo a confronto di un lancere vincerà il lancere. È davvero molto forte contro, appunto, la cavalleria. Ipotizziamo che il nostro nemico venga verso di noi con cammelli, cavalleria leggera, oppure anche paladini. Noi con qualsiasi truppa a nostra disposizione gli sdrumeremo il culo. Per cui, te in parole povere, sono perfetti contro i persiani. E per finire, ragazzi, abbiamo il Berserker Gang. Sembra uno scioglilingua, ma essenzialmente aumenta la velocità di rigenerazione dei Berserk. Ebbene sì, ragazzi, questi truppe, come vi ho già detto in principio, si curano automaticamente. Senza l'aiuto del monaco, che abbiamo visto molto portante in alcuni tipi di strategia, beh, non avrete bisogno di questi, perché lasciamo un attimino riposare le nostre migliori truppe e voilà, avremo più velocità, appunto, con questa tecnologia di rigenerazione. Poi abbiamo i bonus alla cavalleria. Poi abbiamo l'incredibile resistenza ai colpi della fanteria. Poi abbiamo, ovviamente, le tecnologie del fabbro. E guardate bene, ragazzi, hanno tutto. Hanno la corazza a scaglie, la cotta di maglie e la corazza a piastre. Cioè, questi uomini diventeranno davvero potentissimi. E per ultimo, ma non per importanza, costo dei porti meno 15%. Dove sta il porto? Dove sta il porto? Qui vediamo subito il prezzo. 128. Ottimale, ottimo, se vi trovate in mappe con acqua e dovete iniziare, ragazzi, a costruire navi da pesca oppure dovete iniziare per forza a conquistare i sette mari se, ovviamente, volete avere qualche balmus. Ma adesso, bando le ciance, iniziamo subito a studiare una strategia. E ho già in mente qualcosa per i vichinghi. Allora, ho messo una bella mappina con acqua e, che dire, non mi piace essenzialmente ripetermi più di tanto. Per cui ve lo dirò subito e che vi sia ben chiaro in testa. Scautate, trovate tutto e poi subito andate a trovare il vostro nemico. Le prime cose che dovete fare sono essenzialmente le case perché se no non potrete andare avanti e costruire più abitanti del villaggio. Inizierà a mettere subito tutti gli abitanti del villaggio in produzione. Magari anche una bella tecnologia. E poi fate cibo. Cibo, cibo, cibo. A non finire. Perché, amici, dobbiamo arrivare in bocca del nostro nemico nel breve tempo possibile perché la fanteria qui, amici, deve fare quello che sa fare meglio e cioè uccidere, distruggere in pieno stile vichingo. Allora ragazzi, siamo appena passati all'età feudale molto tranquillamente nulla di particolare come ad esempio un fast castle che di solito tendo a consigliarvi appunto per cercare di fare delle truppe e questo perché? Perché già in quest'epoca noi abbiamo qualcosa che ci interessa molto e cioè la possibilità di fare la milizia, potenziarla già fino a fanteria scelta e poi un lanciere. Tutto questo per essere subito lì e preparare subito un 4-5 belle truppe e rompere i maroni alla direzione. State ben attenti ragazzi. La fanteria in generale tra cui la trash unit come il lanciere necessitano soprattutto nei primi momenti se dovete crearne un po' degli sforzi beh, non indifferenti nel senso dovete sicuramente mettere gente a fare oro e gente che faccia davvero tantissima legna e cibo. Non bloccatevi mai cercate sempre di tenere altissima la vostra macro e dovete riuscire ad avere più risorse riuscire a ottenere più risorse rispetto al vostro avversario in modo tale da poterlo schiacciare con i numeri. Poi, come sempre continuate a fare le tecnologie più importanti come ad esempio l'attacco di fanteria e cavalleria l'aumento delle resistenze dei vostri dei vostri uomini state bene attenti in queste prime fasi sono estremamente deboli per cui non fateli andare verso il centro città mettetegli un atteggiamento difensivo questo vi permetterà di poterli in qualche modo tenere controllare in maniera più più precisa no? E così loro una volta che hanno finito guardate buttano giù una falegnameria davvero in pochi colpi e dobbiamo continuare a produrre dobbiamo continuare ad aumentare il nostro numero continuate a stare intorno al centro città avversario continuate a non mollare mai la presa e soprattutto ricordatevi che i vostri uomini e la vostra economia necessita di voi ma è già tempo ragazzi perché siamo stati un pochetto lunghi per via di alcune mie prove è già tempo di andare verso la prossima era perché ragazzi noi abbiamo già un esercito di tutto punto qui abbiamo 14 uomini quindi abbiamo altri 6 quindi ne abbiamo 20 di uomini pronti a fare il culo a paiola a tutti e noi dobbiamo assolutamente passare di era guardateli loro pensano di essere tranquilli carini e paciosi voi invece con il comando pattuglia lo sapete cosa fate semplicemente gli date l'ordine di arrivare fino a un determinato punto ok in modo tale state bene attenti che non vadino verso il centro città tutto quanto ok perché se no questi ve li mangiano il centro città vi mangia i vostri uomini ma qui siamo già belli pronti a riceverli ed eccoci quindi passare di età sì è vero siamo un pochetto lunghi ma che ce frega abbiamo già così tante risorse là sopra ragazzi che appena abbiamo un momento buttiamo un attimino più uomini qua a fare un goccino di pietra ok in modo tale da fare subito un castello e una volta passati di epoca facciamo subito evolvere i nostri uomini in qualcosa di ancora più importante qualcosa di ancora più pericoloso ok e poi li buttiamo tutti insieme appassionatamente in mezzo alla bolgia ed è così ragazzi che passiamo all'età dei castelli la cariola come vedete è già stata fatta non facciamo assolutamente niente continuiamo ad aumentare le prime cose che faccio io di solito sono la sega e poi ad esempio la ratro utilissima e poi subito velocità di camminata dei nostri uomini subito guerriero potenziato in modo tale da renderlo ancora più potente subito il fabbro che si fa un più uno in attacco e subito questi bellissimi uomini che vanno a fare un bellissimo castello guardate facciamo abbiamo anche risorse per fare il picchiare da una parte mentre nell'altro facciamo l'incendio doloso questo permetterà alle nostre truppe di fare più danni contro gli edifici e ragazzi fra meno di 5 minuti abbiamo risorse anche per fare la resistenza alle frecce perché no perché no i nostri uomini ormai tipo i nostri guerrieri sono diventati guerrieri con spada cioè davvero davvero potentissimi e noi continuiamo anche a metterli in linea qualcuno perché no non starebbero mai male i nostri due uomini sono già a buon punto con la costruzione del castello eccoli qua sono arrivati i nostri amici alabardieri sapete cosa facciamo volete supportarli con qualcosa beh metteteci un bel monastero no prima facciamo il castello per piacere ragazzi essenzialmente non ho sviluppato nulla del porto perché i nostri amici li ho chiusi ancora prima che potessero dire budsetete e qua voilà subito mettiamo subito in cantiere 5 uomini qua ce ne sono già altri 7 qua ce ne sono già altri 7 stiamo andando a sviluppare praticamente di tutto abbiamo anche le risorse per fare subito anche il qualcosa per il monastero vediamo quante riusciamo a metterne in piedi ragazzi il berserk va su ad una velocità apopletica mettiamo un paio di monaci perché sapete benissimo che la fanteria normale non riesce a curarsi automaticamente automaticamente potrei anche dire e voilà beh direi che questo esercito è più che composto più che articolato da 60 persone dure come le rocce ok guardate senza neanche mettere senza neanche mettere una riete noi andiamo noi andiamo noi andiamo noi andiamo contro il centro città noi tanto continuiamo anche a farle le nostre truppe tanto guardate ne stanno venendo fuori in continuazione ne abbiamo altre venti in produzione il nostro monaco è qui tutto bello tranquillo e paccioso che dà una mano alle nostre truppe ferite ed è così 34esimo minuto leggermente in ritardo leggermente in ritardo sto cavolo era per arrivare con un esercito con un grumo di gente che non dasse assolutamente spazio e neanche respiro arriva grande impetuoso potentissimo resistentissimo a tutto e a tutti e voilà abbiamo fatto una vittoria con le stesse con la stessa identica tempismo rispetto a tutte le altre partite e c'è poco da dire ragazzi esercito più grande in 34 minuti 35 abbiamo fatto 70 unità abbiamo perso solamente 3 unità abbiamo fatto di tutte di più abbiamo raccolto cibo legname pietra e oro più del doppio rispetto al nostro avversario abbiamo avuto anche una macro di 49 abitanti e tutto questo ragazzi l'economia l'abbiamo grazie al fantastico carretto e alla carriola migliorata mentre per quanto riguarda la guerra beh esercito fatto di infanteria estremamente potente ci permette di perdere anche poche unità estremamente anche forte dal punto di vista degli attacchi e infatti vedete subito e voilà le vostre partite con i vichinghi saranno un gioco da ragazzi ed è così che si conclude anche questo video nel prossimo ragazzi quale civiltà andiamo a scoprire beh fatemelo sapere nei commenti ditemi la vostra e noi ci vediamo in un prossimo mega video ciao ciao